Siamo stati la regione più rigorosa per quanto riguarda le chiusure e devo dire con grande orgoglio che ci siamo salvati per questo come regione Campania. Noi abbiamo chiuso spazi pubblici 15 giorni prima del governo nazionale di altre regioni d'Italia. Devo sempre ricordare che quando noi chiudevamo in Lombardia e in altre regioni del nord si brindava in piazza perché non si doveva chiudere niente. 15 giorni di apertura o chiusura significano 2000 contagi in più, cioè un disastro. Allora noi abbiamo mantenuto sempre una linea di grande rigore e questo ha salvato la nostra regione. Abbiamo anche detto però che non avremmo perduto un minuto di tempo in relazione all'andamento dell'epidemia. Oggi siamo in campania a contagio zero, zero contagi, un contagio, due contagi. Ma insomma in sostanza l'epidemia è sotto controllo e dunque siccome andiamo verso l'estate ci pareva anche ragionevole rendere facoltativo l'uso delle mascherine. Questo non vuol dire che adesso ci togliamo le mascherine, intanto perché nei luoghi chiusi è obbligatorio ancora mantenere la mascherina, ma è obbligatorio anche tenere la mascherina nei luoghi dove ci sono assembramenti. Quindi è obbligatorio portare con sé la mascherina. Come vedete io continuo a indossare la mascherina anche per dare un esempio. Cioè è chiaro che se stai sulla spiaggia, stai ad agosto, un minimo di flessibilità è ragionevole. Però è bene avere molta prudenza. Il fatto che non sia più obbligatorio all'esterno non vuol dire che non si possa e non si debba indossare. Io continuerò ad indossare fino a ottobre, fino a quando saremo in condizioni di assoluta tranquillità e invito le famiglie, i cittadini a fare altrettanto.